le ho messo in diretta a stare in live facetemi una bella chiamata avanti un pari in fuoco blu, ascolti malice in tre corsie calato sud, cambio vale il piaggio, poi io ne abbiamo scontato, io risendo il piaggio purtroppo dobbiamo agganciare un attimo, io insieme di molti e poi iniziamo la nostra vita quotidiana, direzione sud Puglia, però è troppo occupato un po' di riuscire, noi abbiamo fatto già la nostra mezza giornata, facciamo quest'altra mezza e poi rientriamo a casa, tutto rocci, e ora ci vuole pure la voce di Carletto in Dostruciti, se non lo vuoi, pure la voce di Carletto e non lo sento, dove sta Carletto? esca Maricio Hina, ti'ambo tu? eh Marotti, veneno fuoco Maricio Hina, fatti gli uccano voi ha visto che che ha il palma campani, Mario riesco a palma campani e adorazione per la 268, cambio ragazzi, un attimo solo quando il gaccio lo rimorchio e poi la riprendo, capo ma Marotti, l'ha rostato? Manca di calma, vetti non c'è una casa sotto il bicicletta, ma non sto io. Passi vicino per la meridona. Buon mese, la loro chido maiolo. Pannaggia, mi sei, ma che te lo chido qua del chino? E se è innamorato un maiolo, tutto roccio. Con fuoco un bar di una mira, a Cagliallo, tutto roccio. 4,5 da Palma Campania, c'era quella di Carmenuccia che è il pivaro. Avanti, Carmenuccia, ascolti Maurizio, superamento dell'automarco. Cambio. Mi piace, io aggancio un attimo, ci sentiamo dopo. Maurizio, se senti le nuove emozioni con l'antenna sull'altare dell'Avviesco di Novano, cambio. Maurizio, parlo da mani, ma ragazionamento con il Pad 1213 canale. Sì, sì, Carletta si sprema. Avanti, Carletta si sta salutando, buon giorno appena ascoltato, salutare pure per l'Avviesco, per l'Avviesco, per l'Avviesco, per l'Avviesco, per l'Avviesco, si sta emozionando, si è. Coordinata Centro Castoria, Carlo L'Espresso, vi saluta, a Gantio. Ciao Carletta, buona giornata. Avanti, vi agire, mentre l'Avviesco è attaccato, mi rimarchi. Così, Così, Procci, ecco l'avvicinamento con la campagna, c'era pure Piccoletto che ti salutava. Carlo, avanti Piccoletto, ti andi, cambio. Ciao Piccoletto, buongiorno, abbiamo ascoltato. Quando si ganchiamo i rimorchi ne ganchiamo un altro. Piccoletto, ti abbraccio, bellissima continuazione, ci sentiamo. Ciao, Carlo L'Espresso, Centro Castoria, risoluta. Buona, vedi, che signora ti faccio la Sarno, qua? 9.10, 9.20, con l'RF che è in tre quarti, ma discretamente è bene. Certamente non lo sai con il popolazzo, ma stai bene, vai. Così, Procci. Allora, la bomba campagna Sarno, al 9, ci arrivano, per l'Avviesco, 9.10, così, Procci. E' stato un rinforzo, con l'Avviesco, non lo sai con il popolazzo, non lo sai con l'Avviesco. Ma, restate, senti questo qua a Palli, è sceso sotto l'8, per il piove di segnale. Così, questo faccio, allora sono un baracchino 8, con l'Avviesco, 9.10, cambialo. No, 9.20, per la verità, 9.20. Allora, cosa ci vuoi? e non mi ricorda che è la sua salute e poi ascolti a Guido Bruno e ti saluto a Mariuccio, cambio e a parola c'è l'è in blu ecco appena uscito da qua e manca l'onificio di nuova qua costituziando a un balone, avvio cosa dico Mario, cosa dico, abbiamo aggiorato la cuota qua che stiamo uscendo dal gusto, io dico Mario piano piano, direzione Puglia, verso il portamento calico avanti, viaggio radio motrice, si ascolti a Guido Bruno e il centro periferia di nuova qua cambio, cambio Puglia, Puglia, dove c'è il riservo, dai imboccavo con il 268, professione Angri, cazzo Puglia, 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 guardi, è buono, non ho risolvato la vega, ce l'ascoltiamo a sinistra, la imbocchiamo a nuova, la cosa è bella avanti Mario, c'è la premitalia, cambio e appare, ce l'ascolti, si ascolti la maggiorra di Napoli, senti il capitale con la maggiorra di Napoli, cambia, passi subito, ce l'ascolti, non ho l'ascolti, non ho risolvato, non ho risolvato, non ho risolvato, non ho risolvato, non ho risolvato Mario, fai una cosa, aspetta un baronissimo, vediamo se scarica su un bagale e ti corro a dirvi... capito? Sì, allora, che si sta a farlo, non ho capito? ieri di dirti che si tracchiscono, vedi che... ieri di dirti che è un'aggianto! ieri di dirti che è un'aggianto! ieri di dirti che si tracchiscono, vedi che si tracchiscono? ti credo! Tutto a posto! no, ieri di dirti che ce l'ascolti, vedi che non stai mai iniziano, ieri di dirti che è un'aggianto! hai una domanda che non è un'aggia su un gare, non ha risolvato, è un'aggianto! Camminate l'offerico, non mi mettete in questa rambola, hai capito Mario, sul barato la fetteria Rosini, qua piano piano, l'osso e l'osso, 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 capo! Capo, l'osso, 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 Napoli, campi io, ora, KK, si avevi chiuso a vedere, ma non hai capito, qua, non stava portando un segnale talmente forte che fosse il segnale tuo, però la radio che esce, la radio che esce, anche la radio che esce non andava insieme ai tuoi macchini, peralsiasi a sensi, finché tramite 내가�' a Punch yamena, lo 마che 나�orama, Guarda che è un segnale un segnale attivo, vi c'è un segnale, chiede il segnale, lo stesso segnale ora si rilasca, fammi la mattina aperta, buc'ombre per invernare un passaggio, per invernare un passaggio avanti Assuccio, avanti Assuccio, si senti la mattina la meno pausa ogni tanto, vedi? Assuccio, avanti Piace Radio Motrice, si scordi la mia chiamata, ordinate semaforo porteriera, cambio e si scordi la mia chiamata, questa è la mia chiamata e poi si scordi la mia chiamata si scordi la mia chiamata si scordi la mia chiamata Sì, stanno già mettendo le telecamere per la popola degli assi. Sì, siete l'apparecchino a pavirino qua. Buongiorno, si siete l'apparecchino a pavirino. Cambio. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh